Ciao, sono Leo Ortolani e questa è la mia prima volta. Il primo supereroe di cui mi sono innamorato non è un supereroe, è un super cattivo ed è il Dottor Destino. Perché il Dottor Destino? Perché l'ho conosciuto in adolescenza, in adolescenza siamo tutti assolutamente bravissimi, nessuno ci capisce, faremo vedere noi al mondo quello che saremmo in grado di fare e quindi era assolutamente per lui che comprava i Fantastici Quattro e quando c'era lui le storie erano straordinarie perché era un grande, il Dottor Destino è talmente un grande che molto probabilmente anche Darth Vader è stato copiato da lui. Il primo amico che ho creato con una matita? Era una coppia di amici più che un amico, era una coppia di amici, erano un topo molto alto e un cane molto basso, praticamente la versione opposta di Topolino e Pippo erano questi Lello e Giappi, con la fantasia dei nomi dovevo ancora lavorare un po', però sono stati i primi insomma, i primi e sono andati avanti così per qualche anno fino a che non avevo otto anni più o meno, poi è arrivata la scimmia e quindi da lì abbiamo salutato Lello e Giappi. Allora, la prima volta che è uscito Ratman dalla mia penna era esattamente 30 anni fa, la scimmietta, cioè il personaggio che ho conosciuto da scimmia esisteva già da tanti anni perché l'ho inventato che avevo 9 anni per cui siamo nel 76, quindi invece Ratman arriva nell'autunno dell'89 ed è così, nasce un po' per gioco, un po' per così, per aggiungere una storia a un concorso a cui stavo già partecipando, un concorso indetto dall'Eternauta, io avevo già realizzato una storia seria, diciamo così, una storia a modello Twilight Zone insomma, però siccome io facevo spesso e volentieri storie comiche, ho detto aspetta che ne faccio un'altra così giusto per fargli capire quali siano anche le mie capacità insomma di tipo umoristico. era uscito il Batman di Tim Burton e per cui a quel punto lì ho detto dai facciamo la parodia di Batman, non ero neanche andato a vedere il film che tra l'altro all'epoca non ne avevo visto per protesta perché era un film di cui si parlava tantissimo, c'era tanto merchandise, io per protesta e quindi un film così non lo voglio neanche vedere, l'aspetterò poi in televisione, pensate che è imbecille già da allora e insomma quindi faccio questa parodia e nasce Ratman e vince poi come migliore sceneggiatura, pensa che tu come erano messi gli altri partecipanti insomma. Cinzia nasce insieme a Ratman tra l'altro, perché nasce anche lei 30 anni fa, è una battuta piccolissima, ah che triste insomma un po' una battuta da van spettacolo insomma da teatrino povero, per cui semplicemente un postino che consegna una rivista a Ratman, Ratman per l'entusiasmo lo bacia e lui da questo bacio capisce che vuole diventare una donna, insomma una cosa totalmente assurda che funziona subito, infatti i lettori, quei quattro lettori che avevo conquistato con questa storia di Ratman chiedono subito a gran voce un ritorno di Cinzia, che ritorna infatti subito già nella seconda storia, stavolta fa la giornalista, la giornalista per questa rivista che si chiama Omo, e che intervista Ratman e Topin e vede in questo rapporto un po' morboso quello che vedevano anche tra Batman e Robin, insomma c'era questa sorta di omosessualità latente, insomma tra mentore e ragazzetto che segue quest'uomo, personaggio tridimensionale, sfaccettato, molto umano, molto positivo e solare, cosa che non sono neanche io, per cui sono molto invidioso di Cinzia di queste caratteristiche e non so, vedo che ha funzionato, infatti adesso rovinerò tutto facendo un libro su Tamara che è la sua socia assolutamente più materiale di lei, lei è molto romantica, Tamara assolutamente no. Insomma è sempre, non lo so, mi muovo sempre anche a pensare al momento perché assolutamente eravamo senza, non lo so, non sapevamo bene cosa fare, ecco per cui quando le abbiamo incontrate c'erano questi due cosini che parlavano, la prima che è subita andata verso la Caterina perché insomma cercava forse una protezione femminile, quell'altra rimane lì sorridendo però come tipo le lepre che incontri per strada di notte, no, che rimangono davanti ai fari, non sapevano da che parte andare, è stata una grandissima, per fortuna ho anche un piccolo filmatino messo un po' in qualche maniera ed è stata, non dico amore a prima vista perché mi ero già innamorato già da mesi insomma di queste due ragazze e lì è stata la prima volta, devo dire che non mi stanco mai ecco di ripensarci. Ma è difficile che scateni polemiche, se ci sono, magari si sta pensando a Cinzia forse, però più che un fumetto era stata l'idea di trasporlo a teatro, a Lucca quest'anno. Ovviamente c'è gente che si è inventata la teoria gender, se la canta e se la suona tutta da sola, gente che non so di cosa abbia paura onestamente, perché è come aver paura che, non so, che se io vado in una comunità LGBT esco che sono gay, non lo so, che sono transessuale, non si capisce, non si capisce da doveri queste parole qua. Non so, noi stiamo parlando di persone, quindi non riesco, io ti giuro, faccio molta, molta, molta fatica a capire il punto di vista di chi polemizza contro le persone con diverso orientamento sessuale, proprio non riesco, ti giuro, è un limite mio, non riesco a capirmi. Che io sappia, non mi è ancora capitato. Che lo facciamo capitare subito. E voilà, in onore del comandante Luca Parmitano, che al momento sta ancora volando sulle nostre teste sulla stazione spaziale e lo aspettiamo a dicembre.